Il Geocaching è una caccia a tesoro interattiva ed ecosostenibile da fare sia a piedi che in bicicletta. I partecipanti dovranno risolvere degli indovinelli inviando le risposte tramite smartphone e come in ogni caccia a tesoro ci sarà una ricompensa finale. È un modo nuovo di esplorare il territorio attraverso un percorso che va a toccare i luoghi simbolo della città, dalla cultura alla gastronomia, dalla natura all'ecosostenibilità. È dunque una nuova formula di turismo più coinvolgente e scattiva. È importante per la destagionalizzazione e per rendere San Mede troppo inibile tutto l'anno. In questa occasione il nostro Tour Operator ha invitato Travel Vlogger e agenzie di viaggio per presentare questo nuovo modo di fare turismo e di conoscere divertendosi le caratteristiche del territorio. Una proposta che può essere vissuta sia all'interno di un pacchetto turistico con guida, sia in maniera totalmente autonoma. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti. Non mi resta che augurarvi una buona caccia a tesoro e che vinca il migliore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.